Che iniziativa presentate oggi? La Lega Nord che vuole liberare tutta Italia, centro, sud e isole comprese. Apriremo una sede da Lega Nord a Roma, la battaglia contro questo euro che massacra l'economia, contro l'immigrazione clandestina, ci porterà non solo a Roma ma a Taranto, a Napoli, a Catania, a Cagliari e quindi proviamo a liberare le energie positive che ci sono non solo al nord ma in tutta Italia. Aprirete una sede anche a Roma? Assolutamente sì, entro la metà di aprile saremo presenti anche a Roma. I romani non si meritano un non sindaco come Marino e quindi è una città stupenda che è amministrata nella peggiore delle maniere possibile quindi con le nostre piccole energie proveremo a dare una mano ai romani che si ribellano. Perché andate anche al sud? Perché la battaglia contro l'euro è una battaglia di giustizia, di salvezza di futuro non solo del nord ma di tutta Europa, ci alleiamo con la Le Pen a livello europeo e ci alleiamo con tutti quei movimenti che vogliono sovranità, identità e autonomia, controllo della moneta, del lavoro e del territorio e quindi questo va bene a Brescia ma va bene anche a Taranto e va bene anche a Napoli. Renzi si è detto soddisfatto dell'incontro con la Merkel, lei come commenta? Una buffonata, se la Merkel è contenta di quello che ha proposto Renzi vuol dire che per gli italiani c'è l'inchiappettata dietro l'angolo. Se la Merkel sorride gli italiani hanno da piangere, qua c'è solo da ridiscutere un'Europa folle, da preparare l'uscita dall'euro, l'euro è morto, l'euro è finito, quindi la Lega non vuole la fine dell'euro, l'euro è una moneta nata male e morta peggio, noi stiamo preparando un'uscita di sicurezza, una scialuppa di salvataggio per quegli imprenditori, per quegli artigiani, per quei pensionati massacrati e rovinati dall'euro. Quindi Renzi è andato a fare l'immonitore televisivo, ha portato a casa nulla, anzi è andato là col cappello in mano e gli hanno fregato pure il cappello. Ho parlato, segretario, di alleati scomodi, brutti e cattivi, a parte la Le Pen, chi sono gli altri che pensate di coinvolgere? L'alleanza per un'Europa diversa, libera e non schiava delle banche dell'euro, coinvolgerà austriaci, olandesi, svedesi, fiamminghi, finlandesi, tutti quelli che non sono servi di una moneta, di una banca e delle multinazionali, che fanno terrore a Bruxelles e saremo in tanti. La buona notizia per gli italiani, la brutta notizia per gli euroburocrati è che dal 26 maggio ci saranno tanti rompipalli a Bruxelles che vogliono riprendersi in controllo la vita e il futuro. Il problema di Grillo è che dice una cosa e ne fa un'altra, io lo incontrerei volentieri e lo sfiderei volentieri. Sull'immigrazione Grillo è riuscito a cancellare la Bossi Fini, cosa che la sinistra non è riuscita a fare in dieci anni. Sull'Europa Grillo arriva fino a un certo punto e dice dall'euro non si esce, Casaleggio dice dall'euro non si esce. Quindi il timore che Grillo dica una cosa e poi i suoi ne facciano un'altra. Detto questo, se ci darà una mano a combattere questo euro folle e a trasformare l'Italia in un paese federale, faremo un tratto di strada con lui. Ho dei dubbi.